Si parte il 28 aprile con il vecchio ospedale festival, si conclude il 5 settembre con il Tanta Roba Live sotto il Torrazzo. È stato presentato nella mattinata di martedì, nella sala consulta del comune di Cremona, il programma dei festival che si terranno per tutta l'estate in città, racchiusi nella macro rassegna Cielo di Notte, alla presenza degli assessori Barbara Manfredini e Luca Burgazzi. Oggi presentiamo i festival principali, non sono ancora tutti, ma quelli più strutturati, che animeranno l'estate della nostra città. L'estate è un po' lunga, perché di fatto partiremo a fine aprile e concluderemo a settembre inoltrato. Come dire, mesi di musica, mesi di incontri, mesi anche di forte esperienza culturale e per questo devo assolutamente ringraziare tutti gli organizzatori, davvero che in questo periodo hanno lavorato insieme, abbiamo programmato insieme ed è una bella soddisfazione perché la nostra città è davvero ricca di opportunità e di eventi. All'appuntamento anche gli organizzatori di tutti i singoli festival, che in diverse sfaccettature uniranno musica, cultura, intrattenimento e solidarietà. Iniziamo con l'associazione latinoamericana che farà un festival del vecchio nuovo mondo, il vecchio ospedale, che anche lì riprende il discorso di riqualificazione che inizierà a breve. Poi avremo il Porta Aperte Festival, il Lupo in Rock, il Tanta Roba Festival, l'Arci Festa, il Circo L'Arci Pellaro che animerà i palazzi dei musei, in particolare i musei civici della nostra città, come dire, davvero una ricchezza incredibile e anche rispetto al tema della solidarietà con Agro ai Giovani, che sarà appunto una tradizionale festa che ormai tiene insieme l'aspetto della musica, del divertimento con la solidarietà, che poi è uno degli obiettivi principali di tutti questi progetti.